Questa sedicesima edizione è dedicata interamente alla figura di Dante Agostini, che è un personaggio leggendario del mondo della batteria, un grande musicista, un grande didatta, un grande divulgatore, nato a Mercatello sul Metauro nel 1921. Per noi questa era un'occasione importante da sottolineare, visto che sono cento anni dalla sua nascita, ed era un'occasione anche per creare un progetto importante intorno alla figura di questo grande didatta, di questo grande musicista. L'evento si svolgerà in tre serate, abbiamo pensato di realizzare in un weekend tre serate importanti. La prima serata sarà venerdì 20, dove ci sarà un evento inaugurale, dove scopriremo ancora meglio questa figura, attraverso dei documentari, attraverso la presenza delle figlie che saranno presenti con noi a Mercatello sul Metauro, e la presenza anche di personaggi e esperti del mondo musicale. Questo venerdì sera, sabato sera, ci sarà un concerto importante, a Piazza San Francesco, che è un altro luogo importante del centro storico di Mercatello, dove avremo Giacetelesforo Quartet in concerto. E domenica sera ci sarà un momento, anche questo per noi è una novità, perché abbiamo istituito, abbiamo pensato di istituire un premio internazionale dedicato proprio alla figura di Antagostini, e domenica sera ci sarà questo premio, con la consegna delle quattro borse di studio, anzi le tre borse di studio, il premio musicalità e creatività, e poi ci sarà un concerto jazz di un trio importante greco. Stiamo cercando di riportare la normalità anche nei nostri piccoli borghi, sempre molto difficili da raggiungere, ma comunque dove crediamo che il turismo sia il motore principale e creare questi eventi, sempre con estrema difficoltà per un comune piccolo come il nostro, creare questi eventi è sempre un volano per portare gente a Mercatello. Parteciperanno i familiari di Dante Agostini, che sono originari francesi, e una branchia della famiglia, diciamo, è greca. Poi ci sarà Geggete L'Esforo il sabato sera, con un concerto di un quartetto, e la domenica ci saranno i premiati e la famiglia ancora che farà la chiusura dell'evento. Venerdì sera ci sarà un momento molto importante, dove dedicheremo uno spazio urbano, quindi una targa in una via dove è nato proprio Dante Agostini, nei pressi del centro di Mercatello sul Metauro.